E siamo tornati con Dragon Ball Multiverse. Negli ultimi capitoli abbiamo visto tutti insieme che cosa sta succedendo. A quanto pare Babidi ha messo in piedi un grandissimo piano, ha mandato via tutti i più forti partecipanti al torneo e ha lasciato lì solo quelli un po' più deboli, ma anche quelli senza un cuore puro. In poche parole, quelli che poteva tranquillamente portare sotto il suo controllo. Babidi infatti ha trasformato gran parte degli ex partecipanti, ma anche degli spettatori, in dei suoi servitori Magin che ora stanno combattendo contro invece i buoni che sono rimasti lì. Oggi vedremo quindi come gli altri cercheranno di risolvere questa situazione e andremo avanti in questa nuova, tra virgolette, saga come ormai l'ho definita. Quindi ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace e se vi piace questa serie e non volete perdervi i prossimi episodi vi consiglio caldamente di iscrivervi a questo canale così almeno siete sicuri che non vi perderete niente. Detto questo direi che possiamo cominciare e bene o male iniziamo da dove ci siamo fermati la volta scorsa. Però torniamo a vedere che cosa stanno facendo i partecipanti del torneo che sono stati mandati via da Babidi. A quanto pare, come abbiamo già visto nello scorso capitolo, stanno cercando di capire da che parte è l'arena, visto che sono stati teletrasportati miliardi di chilometri in là. Però ovviamente ci metterebbero troppo a cercare a caso e quindi decidono di dividersi i diversi emisferi dell'universo per cercare meglio il tutto. Tutti quindi iniziano a cercare, da diverse parti ovviamente del pianeta in cui si trovano, tutti tranne il Vegeta malvagio che addirittura sbruffa un pochettino e prende in giro chi sta lavorando in questo senso. Vegeta, il nostro Vegeta ovviamente, lo cazzia dicendo se veramente non vuoi aiutarci almeno vedi di stare zitto. Il Vegeta malvagio cerca anche di rispondere, ma il nostro Vegeta ormai ha passato quest'era, quindi sa benissimo, conosce benissimo la sua stupidità vecchia e quindi continua a rimproverarlo. I due quindi iniziano veramente a punzecchiarsi della serie. Vegeta dice che tu sei debole, il Vegeta malvagio dice che tu non sai neanche utilizzare il Super Saiyan di terzo livello. Però ovviamente il Vegeta originale che ormai è cresciuto sa benissimo che quello non è il post adasto per un combattimento purtroppo per noi e purtroppo anche per Goku, Vegito e Bu che volevano effettivamente vedere questo combattimento insieme. Comunque torniamo all'arena e vediamo che cosa sta succedendo. Il combattimento tra Gohan e Majin Cell continua. A quanto pare Cell fa notare che Gohan effettivamente è diventato molto più forte, ma anche lui effettivamente si è potenziato moltissimo e difatti riesce ad utilizzare un cannone speciale, la classica mossa di piccolo, verso il povero Gohan. Fortunatamente però Gohan riesce a parare il colpo con la sua mano che inizia a sanguinare, ma gli permette comunque di sopravvivere all'attacco e anche di tirare un bel montante a Cell dritto sul suo stomaco per rispondere all'attacco. Gohan comunque, nonostante stiamo parlando di un Cell che di fatto ha vinto in passato la sua battaglia contro i guerrieri Z, riesce a tenerli tranquillamente testa, anche Cell effettivamente sembra essere sorpreso di tutto questo, ma allo stesso tempo vediamo che cosa è successo l'ultima volta che abbiamo visto gli eventi dell'arena, perché a quanto pare Nappa ha ferito gravemente Videl. Gohan sente effettivamente questo problema e quindi decide di lasciare totalmente perdere la questione Cell e lo lascia lì, impalato. Cell chiaramente dice, oh, tu non te ne puoi andare da questo combattimento, ma Cell viene comunque interrotto, viene fermato da uno dei guerrieri con l'armatura rimasti effettivamente nell'arena. Ovviamente è un po' infastidito dalla sua presenza e quindi decide di occuparsi di lui prima di tornare ad attaccare Gohan. Fortunatamente però il guerriero non solo riesce a resistere, ma riesce anche ad affliggere qualche colpo a Cell, il che permette comunque a Gohan di prendere un bel vantaggio. Ovviamente non è l'unico combattimento che si trova in questo momento nell'arena, abbiamo il grande mago piccolo, anche lui con il logo Majin sulla fronte, che sta combattendo contro uno dei Kaioshin supremi, che si mette a fischiettare. Vediamo a quanto pare, tra l'altro, che il guerriero con l'armatura, dopo aver afflitto questo attacco a Cell, utilizza la sua armatura per fare a fettine il corpo di Majin Cell. E addirittura questo raggio sembra andare proprio in direzione del Kaioshin, che continua a fischiettare, ma decide di teletrasportarsi all'ultimo per lasciare questa palla, diciamo, questa patata bollente, al Majin grande mago piccolo, che di fatto viene tagliato in due. Effettivamente, ragazzi, questo colpo sembra essere andato veramente bene, perché anche Cell è stato fatto a fette, peccato che noi tutti sappiamo esattamente come funziona la biologia di Cell, di fatti non solo è ancora vivo, ma praticamente non ha perso niente a livello di energia. E anzi, ricordiamoci tutti che è una cosa da ribadire sempre quando si parla del personaggio di Cell, che lui ha anche al suo interno le cellule Saiyan, quindi quando arriva vicino alla morte diventa più forte. Difatti ringrazia i guerrieri per aver aumentato la sua forza e dice che andrà avanti. La nostra attenzione però si sposta nuovamente su Re Cold, che è in una delle sue ultime forme, anche lui, Majin, che sta affrontando una delle Kaioshin. Cold comunque decide di utilizzare la sua vera forma finale, per intenderci, per chi è stato fan di questa serie, è quella che ha usato contro Bra, quella con più braccia, e attacca non solo la Kaioshin con cui stava combattendo, ma anche l'altro che stava combattendo contro il grande mago piccolo, che arriva ad aiutarla. Tra l'altro, l'altra Videl, vediamo che anche lei, impegnata ai combattimenti, nel suo caso sta cercando di combattere contro Majin C-17, ovviamente senza successo. Anche Kakarot, il Goku malvagio, che era stato sconfitto nell'ultimo capitolo, si sta rialzando piano piano, andando ovviamente dritto verso il tizio con l'armatura che l'aveva affrontato prima. E vediamo anche che sta facendo effettivamente Babidi in tutto questo. Si trova in una stanza nascosta, accompagnato da Majin Buu e da Bardak. Qui, tra l'altro, alla sua ricerca, vediamo che c'è proprio Gohan, che sta cercando di capire effettivamente la posizione del nemico. Gohan, però, si rende conto di essere molto molto vicino, di sentire la sua presenza, ma di non vederlo. Ed è proprio così che capisce che in realtà Babidi stava semplicemente utilizzando un incantesimo per mascherare la sua vera posizione. Gohan quindi decide di potenziarsi per distruggere questo incantesimo e chiaramente Babidi manda subito Buu all'attacco. Chiaramente non c'è niente di peggio di un Gohan incazzato, che manda Buu K-PO in un secondo e uccide Babidi, come se nulla fosse. Voi direte, quindi, sta saga finisce così? In realtà no, ragazzi, perché in realtà tutto questo era una visione di Bardak, che dice al suo capo, dice a Babidi, che neanche Buu effettivamente può difenderli e che quindi devono prepararsi per una trappola. Almeno così possono provare a sopravvivere. Nel frattempo, sempre all'interno dell'arena, più o meno nella zona degli appartamenti, diversi servitori sia di Cooler che di Freezer provano ad affrontare l'universo in cui sono rimasti solo i terrestri, ma vengono fermati nell'ordine da Yamcha, ovviamente anche Krillin e la loro Videl. Ovviamente li sistemano come se nulla fosse, Tenzing porta anche fuori la spazzatura, vi ricordo che loro stanno difendendo il Kaioshin che sta esercitando il suo rituale su Radish, ma proprio alle spalle di Tenzing compare un Maujin Cell Junior all'insaputa di tutti. E il capitolo finisce proprio in questo modo, lasciandoci col fiato sospeso come sempre. Ragazzi, siamo arrivati alla 32esima parte di Dragon Ball Multiverse e vi assicuro che siamo a buon punto per quanto riguarda la narrativa principale. Una cosa che non vi ho detto ma molti di voi sanno è che in realtà in Dragon Ball Multiverse ci sono diversi special che narrano le backstory, diciamo così, dei vari personaggi che noi vediamo. Backstory che io non ho effettivamente raccontato, perché questa serie è dedicata direttamente alla saga Dragon Ball Multiverse, ma prima o poi vi prometto che le prenderemo in mano tutte quante, non vi preoccupate. Detto questo, io come sempre vi saluto, vi ringrazio, vi consiglio di iscrivervi al canale, ci vediamo prestissimo con altri contenuti del tema Dragon Ball e in particolare con questa serie. Ciao a tutti ragazzi!